e ciao a tutti quali peciolini benvenuti in questo nuovo video di untarned oggi sono in compagnia di di peverozzo no 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 mi sono ripoltato questo trova un unico mezzo dopo 300 anni non mi sono riportato allora questo è un nuovo gioco che non è proprio un nuovo parico verso la strada verso l'aeroporto se c'è una panica di riuscire dall'aeroporto grazie allora questo è un bellissimo zog o cristo mi sono andato a schiantare ragazzi io non gioco sto gioco da allora stavo dicendo è un gioco che non lo so è un gioco di zombi ecco vedo dei posi delle luci ma mi spieghi come faccio a camminare sulla strada se mettono la roba o il trattore è veloce o il trattore vado a 50 all'ora 44 l'ora ti butto sotto peper non ti preoccupare se ti vedo ovviamente come si chiama quello che io ufficialmente non ci sono no cosa che c'è messa a fare che anche manca o a giugno i nomi di rinnovi c'è qualcuno quello che ti pochi anni perciò nero perciò nero per 70 al nero quasi tutta da guida un po tu dai comunque ragazzi spolliciate almeno 15 pollici in su che vado gg lo portato un altro gioco ma se volete vedere anche mani di santa c'è 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 immaginare ma mito in quella macchina per venire dove vai ho fatto un marciolato l'auto o c'è un negro è però è ma sempre con i negri tra fai poi dai 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 dammi natalica di benzina per modi ma la mappia di vestire tutti i zombi di verrai prima rimaniamo a piedi per picchia natalica sono demente statici per sapere non dovevo dargliela lui cristo 8 per c'è bravo trovata lì che buttaglielo di oltre ho scoperto una cosa di cacca poi devo vedere o vede o mangiare qualcosa per curare che il calco per chi sta sparando è pronto a vedere 300 si sono pronto a morire c'ho 10 hp allora un bello non abbiamo più ah ah sta fumando il nostro tattore oh paper ho l'allucinazione paper mi sono cato che cazzo ho bevuto con precisione che cazzo è il glue paper è la tua arma ho bevuto la mia arma what the fuck il glue deve essere la colla ragazzi ho bevuto la colla ma ho bevuto la colla ma in benzina no ma quanto è coglione da uno dieci questo regalo uno cercano molto e chi è questo oh 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 c'hai il cane mozzo oh coglione guarda che il negro sono io dammi il kit dammi il kit se c'è un kit comunque ragazzi sono troppo felice mentre carico un video sto riuscendo a giocare oh oh a direttura oh oh madonna mia che spavento qualcuno ha chiamato un busto io stanno venendo fuori dei piccoli coglioni e siamo già lo bigliano bigliano spacciati io ci sono mentalmente e loro stanno girando di anche tua a che quota di mi piace devono arrivare e per entrare santa scappa scusate pepe sono solo due pepe scappa 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 vede spacciati ci sei e però finiti colpi e però finiti colpi devi dire non do te devi dire aiuto ho vedi a capire quanti mi piace tu entrerai nella serie di antar oh 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 ciao ho oh 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 capisci un po e non sono io aiuto un negro e non so per farlo venire io campero questo sei tu non ci credo con h puoi pure vederti in terza persona andiamo sopra e lo stupriamo sopra viene stupriamo la gente hashtag stupriamo la gente oh qua c'è una ammazza da baseball oh dammi l'ammazza da baseball no 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 dammela a me qua c'è una ammazza da baseball quelle da golf 3 1 allora devi dire mi devo troppare e le cose tasto destro e così oh tasto destro così in giù g poi sull'arma o cosa puoi fare tu tasto destro e poi c'è una frecce ah ho capito tasto destro e guarda ho visto guardami qua guardami e per tu non lo sai che cosa ho io ho i binocoli no ma dai guarda cosa ho in mano io senti qua che è un po' di cibo un po' d'acqua please a me serve dita oh ho detto c'è una torcia è una tv andata e la torcia ci serve per dopo vieni qua vieni qua vieni fuori vieni qua aspetta fammi vedi allarmi oh mi fai prendere ehm voglio mettermi la mazza da sbaseball da sbaseball me la metto sull'1 amminto questo mi dice hai del cibo io lo butto a terra e tu butto me lo dammelo dammelo io ho fame brutto sito si possono mangiare guardami 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 mi butti il cibo ti uccido oh voglio pure come g g la metto sul 2 ma qua c'era un negro prima non ero io vabbè forse mi sono confuso peper resi negri hashtag peper resi negri e per come l'hai fatto a mettere peper e cliccare tab tasto destro sui due inopoli e la botellina che cazzo tasto destro sui binocoli e la botellina guardiamo guardiamo il infinito e per come ho fatto a me troppo terza persona h o una h beh aaaah arriverà oh c'è un aereo in aereo c'ho una mazza da golf dietro cioè non so questo dove significa le cose in culo oh c'è una radio oh bella zi bella zisa andiamo sopra peper c'è l'antenna che ammazzo l'antenna oh oh creepy o creepy o creepy ho 30 o 23 di HP oh un negro oh siete vincente oh un ammazzo di baseball oh un ammazzo di baseball questo appena vede un negro c'è l'istinto di picchiarlo vabbè e sai come fega i negri sono della brutta persona è vero i negri sono delle belle persone ok andiamo andiamo in mito andiamo in mito vado all'aereo secondo me c'è qualcosa da droppare qualche chiso c'è l'altro c'è l'altro c'è l'altro non lo so allora sono entrato in server russo e c'erano tutti italiani sono entrato in server italiani e non sono tutti russi mentre non serve l'ucraino non lo so erano tutti piselli oh ma che cazzo peper ti insegna una cosa addoggiare guarda 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 ma questo si è svegliato in modo strano in modo strano vieni qua non lo pensare nei capannoni ci stanno un sacco di risorse nei capannoni ci stanno un sacco di risorse nei capannoni ci stanno un sacco di risorse peper ma poi alla fine che facciamo moriamo e nel prossimo video non si può continuare come funziona peper l'ho trovato peper l'ho trovato peper l'ho trovato come si chiama piede di porco ho trovato il piede di sete spacciate eh di porco peper è pure il piede di porco lo prendo me lo inculo il piede di porco allora perché stai morendo? sto sanguinando peper vieni qua ti è mazzo così oh già meglio lo piglio io dimmi se si può guidare l'aereo ma che gare l'ho basta oh Emanuele premi m e scett... eh si e scettiamo peper 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 non riso oh un negro un negro oh oh dietro di te non sono io quello la quello col piede di porco uccidiamolo negro di merda uccidiamo 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 guarda che quello è è mister satanic si chiama alta definizione cosa andiamo via io scappo uccidiamolo ma che vuoi uccidere un martello ma quello l'agga come fa a ucciderlo Poglione Vieni qua Diggi abbasco e la vocita gallina Beber scappiamo io dall'aeroporto Che ci sfondano C'è un negro lo devo uccidere Ancora questo negro Piglia l'arma piglia la capa che ne so Puglia qualcosa Beber ho bisogno di acqua cibo e kit Ma non è più questo Siamo Ma cosa l'hai trovato tu Beber Ma sono anche io Di mezzo Non è qui Ma porco C'è noi mezz'ora ci uccidere con i babbi Non è più qui e ho perso 20 HP E ho fatto pure Una macchina Team 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 Tard Tard Piglia la piglia la fotti la fotti l'arrivo Non c'è benzina Non c'è benzina No ma quello ci fotte tutte le risorse Mi morta a cibo Un pezzo di merda Neve Non ti so Sono un beso ciccione Negro Dacci le risorse Sennò più uccidiamo Peber Andiamo a ucciderla Ma questo ho trovato una macchina What the fuck you are serious bro You are very fucking serious Beber sei macchia con lui Chi chi Sei macchia con un negro Ciao negro Bella zi Come stai? Negro guardami Ciao tai sordo dove stai? Perché questo fa mal di dietro? Premi h premio h premio h Guarda come c'è un negro dietro No 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 Io sono un vecchio Ma mi dio la tua skin E' vero Oh aspetta ma Oh ma che porco Questo è full Oh sono uscito Ma non si può buttare a terra Ma che cazzo suoni Ma chi te si è in culo Capiamo pepe Vado via Aspetta un attimo Aspetta un attimo Aspetta un attimo Vedi se c'è una tonica di benzino La buttiamo qua dentro e camminiamo Aspetta un attimo Guarda Vado controllo Aspetta 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 Vem però lo sai che siamo a 13 minuti di video Non abbiamo fatto un cazzo Lo so Allora comunque Vero di merda Vi ripeto nel prossimo video Sicuramente verrà pure Mamid senza Anzi se non lo reccherà Problemamid Cioè ragazzi Vedete Vedete Fateci sapere se vi piace il gioco Ehm Ricordati di metti tanti tanti like Likes E perché mi sentite doppio E adesso mi ha da suicidare Non mi ha da suicidare Dove sei? Sulla spiaggia ne ho suicidarsi Il mio tesoro E di qua Dove sei? Ehm Mi ha da suicidare 3, 2, 1 All'acqua 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 Quanto è stupido Io ho tardi Come dice il paper Vabbè Vi spero che il video vi sia piaciuto Vi ricordo come al solito Vi lasciate tanti tanti mi piace E fateci sapere soprattutto se vi piace il video E ricordate di passare su carrile paper Ciao a tutti Bello Ciao 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 Ciao